2018 anno ribilis almeno stando ai dati sulla mortalità da incidenti stradali sulle strade della provincia di cremona un bilancio da guerra con 25 morti 1549 feriti ben 7 vittime in più rispetto all'anno precedente addirittura 15 rispetto al 2016 i dati sono di un rapporto di regione lombardia sull'incidentalità stradale provincia per provincia un quadro in cui la mortalità 2018 sul cremonese risulta tra i più pesanti a livello regionale ogni 100 incidenti si contano 2,6 morti nella provincia di cremona nel 2018 contro l'1,5 in lombardia senza contare i 141,3 feriti contro i 137,1 nel 2018 la metà dei morti sulle strade erano conducenti o passeggeri di autoveicoli 6 le persone in bicicletta 5 i conducenti di autocarri il maggior numero di feriti ha un'età compresa tra i 15 e 29 anni e tra i 45 e i 64 anni statisticamente il maggior numero di incidenti è avvenuto nei mesi di aprile e giugno e luglio l'indice di mortalità maggiore si registra nelle curve stradali 86 incidenti con 8 morti e 113 feriti